Benvenuti nel canale Twitch di Enrico Bond e benvenuti nel canale YouTube di Enrico Bond ovviamente, perché il video arriverà poi. Bene in questa diretta andiamo avanti con Aplugte subito al gioco via 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 eccoci qua pronti attenti via. Ok eravamo rimasti con lo scherzo di elefante bene lì c'è qualcosa da accendere vediamo cosa c'è qui ok quindi tiriamo giù proviamo quindi ma tiriamo giù le eccolo facciamo entrare sì ma bello guarda quanti bei topi vediamo cosa può fare qua allora questo lo tiriamo giù perfetto quindi questo non si può stanno panchettando poi così no cosa si può fare litro con fionda bottiglie di alcol no vediamo dall'altra stanza cosa c'è proviamo di qua ascensore premio lb per dire il compagno ad reagire guarda verso l'oggetto e premio y sì ma che oggetto devo premio e devo vedere forse questo diciamo a luca vai prova te proviamo così dai andiamo di qua zolfo quindi dobbiamo portare il carretto di qua dai 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 su 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 ok ok bene ok 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 ci è frizzato ah no Raffizzato il gioco Sì, lì c'è Dai, Miss, dai Porta il carello di qua Ok Che bello Ok, quindi Ok, io ho Buttato giù il coso qua Il pezzo di manzo Però cosa manca? Cosa manca? Cosa manca? Ah, ok Stillo prima Evitiamo di cadere, grazie Ok, perfetto Adesso Tiriamo giù Questo Oh mio Dio Via Quindi Muoviti Muoviti Ci sono i topi Che mi osservano Via, 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 via Perfetto Bene Ok Ok Quindi Mescoliamo Perfetto Ok Quindi Facciamo così Bam Wow Wow Via Via Proviamo a vedere di qua Abbiamo spazzato via tutti Sì Sì Vai giù Guarda che sono tutti là Che mi aspettano Dove sta Bam Tutto Argano La tirare giù La piattaforma Oh Qua Perfetto Bam Molto bene Guarda come scappano Ok Un vasetto No Eh So che fate Così Però Qua non potete venire No C'è qualcos'altro Che posso No Abbiamo acceso Uh Aspetta Sì Così Esatto Facciamo cadere La piacola Bam Perfetto Cosa devo fare Con il vasetto Uh Che figo Posso Usare anche il vasetto Oh Molto bene Interessante Interessante Abbassiamo Abbassiamo Is Tu Si 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 Mi Mi Si Devo andare Di qua no di qua devo andare vasetto no questo si ok prendiamo tutto vasetti ne abbiamo ok quindi usiamo i vasetti via ratti via ah maledetti maledetti qua non c'era non c'era abbastanza fuoco non c'era abbastanza luce non importa interagisci rifacciamo perfetto vasetti non serve bene ora possiamo passare prendi 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 via via ho finito i vasetti ho finito i vasetti ok ora possiamo crearne perfetto questo eeeh questo dai andatela a mangiare dai su via ottimo bene che figo si mettono la mano davanti al volto per la luce bene si fa sera non vedo più il sole quindi anzi il tramonto via 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 kkk ok siamo quasi arrivati alla torre il nostro obiettivo è di questa live cos'è ah le piante da raccogliere ok sono praticamente collezionabili c'erano anche sul primo episodio piante da raccogliere vengono come un po' da collezionabili vasetti alcol in quantità ottimo un acetone così tanto per eh sì si può andare di qua oppure di qua ma cosa c'è andiamo su qua c'è tanta bella roba abbiamo un cortello e tanti vasetti l'olfo e alcol non possiamo piccolo chimico qua possiamo creare veramente di tutto aspetta aspetta che creiamo un po' di roba va ok vasetti ne abbiamo sì ne ho sei ok 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 andiamo 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 verso la torre ok ok Grazie a tutti.